Nella mattinata di mercoledì 11 marzo corrente mese il personale della divisione PASI ha proceduto a deferire alla competente AG ex articolo 650 per la riscontrata violazione alle prescrizioni imposte dal decreto dell'8 marzo 2020, successivamente integrato dal decreto del 9 marzo 2020 articolo 1,1 e articolo 4,1 PF nato a Cariati nel 1979 ed SF nato a Ciron Marina classe 50. I due una volta giunti negli uffici dopo essere partiti da Ciron Marina adducendo quale motivazione con apposita autocertificazione il solo fine di presentare istanza amministrativa contravvenendo di fatto alle predette norme relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, istanza che non rivestendo comunque il carattere di necessità ed urgenza poteva tranquillamente essere trasmessa con le previste modalità informative. Grazie a tutti!